Entriamo nell'ultima mezz'ora di Halo 3 Allora, merda, nell'ultima mezz'ora, quanta minuti Allora, aggiornamenti cinematografici intanto Ho visto a pranzo un caldo immagino, chiamato cortocircuito Mi hanno fatto parecchio ridere Ma ho visto qualcosa di nuovo a cena Ho visto Charlie's Angels, quello di Elizabeth Banks Con Christine Stewart, Elizabeth Banks Ella Balinska e Naomi Scott Ficca, secondo me Allora, si lascia guardare Mettiamola così Secondo me si lascia Si lascia guardare Non è la merda assoluta Non è Che scusa? Dicevo, non è la merda assoluta Non è bellissimo Mi ha lasciato qualcosa Cioè, la canzone me la ricordo ancora Cioè Da I'm sad for Ta 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 Ehm E me lo ricorderò Più che quelle in piedi Le prodotti digital C'è di Byte Ehm Va bene Io ne ricordo del suo passato Ehm Ehm È nulla, mi sono divertito alla fine Non è Aspetta Eh Non è diamanti grezzi Diamanti grezzi È figo vero Ma questo è carino Ti fa passare 1.40 In tranquillità Altistronzi Altistronzi Quindi Adesso pensiamo a finire questo Ehm Ovviamente Beh, non ve lo sto a dire Profondo quanto un calcio nel culo Ma Su cosa non avevo dubbi No, ma è stata una grande presenza di effetti visibili Nel In quelli vecchi c'era Qualcosina Tipo anche qualche rally Inti o altro Qui è proprio un cazzo Ehm Ehm Nei nulla Interessanti magari Qualche scelta azione Tipo Carino Tutto sommato Aspetta Niente di Galattico Eh Ma Ok Mettimi su un piedistallo vicino alla porta Ehm Andiamo Bella Adio Bella Ok Ok Beffa Ah E' un aglio tanto lungo Si Un attimo Adesso mi metto da saltarlo Però Vabbè Stop il microfono Da questa parte Ehm A E 퍽 C'è hacer Mother Ehm Ha Ehm pequeño Lettons De immagini At At Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Esco da qui. Ok. Ok. Buon... E... Sono... ... ... No capisco... Ok... ... 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 Che dubiterebbe dei profeti? O che abbiamo predetto non si fosse sempre averato? Bene, io muto e loro parlano, come cazzo funziona? Siamo praticamente alla fine? No? Vabbè noi di questo continuano a spostarsi avanti e indietro nei punti Ok Non venite a cagare del cazzo a me Ottimo Pessimo piano Ahia Ho qualcosa qua Allora Dove cazzo devo andare io? Ando di qua No, ho detto di no Ho detto che non ne ho voglia Merda, apri? Ok Ok Andiamo Minchia ho detto no, anzi Sì L'ho notato Se il bersaglio Che ci pare A quanto pare No No, non dovevi farlo Potresti cercare di riportare la casa Khi E No 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 Ok No No Ho detto di no Ok Ok Alla No 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 Vio Vio Tu non ti hazi no Vio 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 Mi lavo di culo Merda Ok, io devo capire che cosa fare una volta giunto lì perché ancora non mi è chiaro. Devo interagire con questo Certo, devo farli fuori tutti, matti Come avuta Abbiamo dei problemi Ok, lì che devo andare Non si api Certo ma è da a fita le cose ok 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 and ah bene